Eccolo qua, ma ammazza sono dovuto andare a casa del diavolo per trovarlo il 24 dicembre, ma mi ha detto bene, c'era solo più questo. Dice che l'ha portato indietro uno pieno di bozzi, che strillava che l'albero era cattivo, ma la gente è proprio pazza, ma come fa l'albero di Natale a essere cattivo, è il simbolo stesso della bontà, altro che la grotta e il bambinello, il bue e l'asinello. Sei proprio bello, ma lo sai che c'è? Ti faccio una ripresina, ti mortalo per i posteri. Eccolo qua. Vai via 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 Ammazzami il cattivo forte, pure a Natale! Buoni vesti!